L'allarme è terminato solo alle dieci e mezzo di sera, quando il vagone che perdeva botilene, un gas che a contatto con l'ossigeno può incendiarsi o esplodere, è stato scortato dai vigili del fuoco sino allo stabilimento Eniversalis, dove sono state effettuate le operazioni di travaso. Si è conclusa così un'emergenza durata ben cinque ore e che ha di fatto paralizzato Brindisi, con l'evacuazione e la chiusura della stazione ferroviaria e quella del cavalcavia dei Gasperi, che collega la commenda al centro, provocando ritardi sensibili sulla rete ferroviaria. Tutto è iniziato intorno alle 17.30 quando qualcuno ha avvertito odore di gas provenire da un convoglio merci con sette vagoni, fermo da qualche ora su un binario della stazione ferroviaria in corrispondenza di via Torpisana. Sono intervenuti prima gli agenti della Polfer, poi i vigili del fuoco. La perdita di butilene è stata localizzata nel penultimo vagone del convoglio, che si trovava quasi sotto il cavalcavia dei Gasperi. È scattato immediatamente il piano di evacuazione della stazione ferroviaria, dove sono giunti, oltre ai vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Impedito anche l'accesso al sottopasso che da via Torpisana conduce sino ai binari della stazione ferroviaria. La Polizia Municipale ha bloccato il passaggio in entrambi i sensi, anche ai pedoni, sul ponte di via Aldomoro sotto il quale si è verificata l'emergenza. Il traffico ferroviario è stato ovviamente condizionato per ore e in alcuni casi sono stati organizzati servizi sostitutivi con autobus per il trasporto dei passeggeri. In gorghi stradali si sono creati sia nel centro cittadino che a Rione Commenda. Nel frattempo i vigili del fuoco erano al lavoro per mettere in sicurezza il vagone e contenere la perdita di butilene. Sul posto il comandante Giulio Capuano con numerose squadre, tra cui quella specializzata del team nucleare biologico chimico radiologico. La perdita è stata isolata intorno alle 8 di sera. Non era cospicua ma avrebbe potuto comunque provocare rischi seri trovandosi il treno fermo nel cuore del centro abitato. I vagoni integri sono stati trasferiti nel petrolchimico dove poco dopo è giunto con un locomotore dedicato, scortato dai vigili del fuoco, anche il vagone interessato dal guasto. Solo a quel punto la stazione ferroviaria e il cavalcavia sono stati riaperti.